E una volta portato in pollizione, lo abbiamo legato, addensato, con dei fogli di gelatina naturale. Dopodiché, un altro stato è questo, che è un cremoso al cioccolato fondente, che si ottiene in questa maniera. Si fa una crema inglese. Ora, la crema inglese è una preparazione in base della pasticceria, che è una crema all'uovo, senza la farina, come una crema pasticcera senza la farina. Cioè, si lavorano insieme i tuorli, l'uovo e lo zucchero, a parte si porta a pollore del latte e della crema d'atte. Una volta che è pulito, si unisce al tuorlo lavorato con lo zucchero e si riporta il tutto sul fuoco, fino a una temperatura di 82 gradi, che è la temperatura oltre la quale l'uovo poi cuoce. Per cui, diciamo, la crema si strappa, come si dice. Per arrivare a 82 gradi, questa crema si leva dal fuoco e viene una crema, una salsa, piuttosto densa, quindi una crema senza farina. Questa crema, quando è ancora calda, viene rovesciata sotto il cioccolato fondente al 70% tritato. Grazie. Grazie. Grazie.